Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Sorelle e fratelli, ci troviamo per questo momento di ascolto della parola del Signore, di preghiera, di canto e staremo insieme per qualche domenica. E questo è molto bello. Leggeremo un libro particolare della scrittura, che come dirò poi dopo, ma come tutti sappiamo normalmente non è molto letto, sul quale in genere non si predica, che è quello del cantico dei cantici e cercheremo di provare a comprendere anche perché questo libro è nella Bibbia, perché questo è un problema che molti si sono posti. Qual è la spiegazione di tutto questo? E comunque incominciamo adesso questo nostro percorso, che allora presenterà forse anche qualche sorpresa e questo magari ci aiuterà ad andare avanti annoiandoci un po' di meno e conservando quella meraviglia che è la condizione per ascoltare con frutto la parola del Signore. Ci vogliamo mettere alla sua presenza. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Dice il Salmo 100, tutti voi giubilate nel Signore, servite il Signore con allegrezza, venite al suo cospetto con canto, poiché il Signore è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Preghiamo. O Padre Celeste, che con la Tua parola continui a guidare, ad arricchire, a dare senso e speranza alla nostra esistenza. Guarda benignamente ai Tue figli e figlie che in questo momento vivono questi minuti di ascolto e di preghiera. Manifesta la Tua presenza, benedici il nostro parlare, il nostro cantare, il nostro ascoltare, affinché esso ci prepari a servirti sempre meglio nella nostra vita e a glorificare il Tuo santo nome. Te lo chiediamo in Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. La madre, il Signore, la vita, riconoscenti per i vostri eroscenti, e la paura che adesso è sbagliata, per il cuore e il canto degli uccelli, per la nostra nostalgia sbagliata. 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 A te, Signore, la vita, anche te per te vi giubilo, salvino per me. A te, Signore, la vita, anche te per te vi giubilo, salvino per me. A te, Signore, la vita, anche te per te vi giubilo, salvino per me. Perché penso sia una magnifica introduzione a quel particolare, bellissimo libro dell'Antico Testamento che, come dicevo prima, nei culti non si legge quasi mai e tantomeno viene predicato che è il Cantico dei Cantici. Con un pizzico di coraggio e anche con una certa dose di incoscienza, io vorrei provare in questi nostri culti a leggere con voi alcune parti del Cantico dei Cantici e addirittura meditarci sopra. Prima però di leggere oggi solo il primo versetto del Cantico dei Cantici, vi propongo una piccola introduzione che spero ci possa aiutare a entrare in questo libro, a comprendere perché, nonostante quello che ascolteremo forse anche a volte con un po' di imbarazzo, esso faccia a ragione parte della Bibbia. Per prima cosa, allora ecco, oggi leggiamo il primo versetto che è anche il titolo, perché questo libro ha questa particolarità che è uno dei pochissimi nella Bibbia, credo, assieme all'Apocalisse, che inizia proprio con il suo titolo. Il primo versetto di questo libro dice il Cantico dei Cantici di Salomone. Vogliamo avere un breve momento di interludio musicale. Nella lingua ebraica Cantico dei Cantici è un superlativo assoluto, che noi possiamo rendere in questo modo il Cantico per eccellenza, fra tutti quanti i Cantici, il Cantico sublime, il Cantico più bello. E proprio perché è così bello, eccellente e sublime il Cantico, anche se certamente è stato composto in un'epoca molto posteriore a quella in cui è vissuto e ha regnato Salomone, oggi molti studiosi pensano che sia stato composto addirittura all'inizio del primo secolo avanti Cristo, da un ebreo di Alessandria dell'Egitto che conosceva bene e si è ispirato anche alle poesie d'amore dei poeti ellenistici della sua epoca. Ecco, quest'opera è stata attribuita a Salomone, il re, figlio di Davide, saggio e amante per eccellenza, vissuto nel decimo secolo avanti Cristo. In ogni caso, il Cantico merita di avere un titolo che è un superlativo e merita anche di essere attribuita a Salomone perché questa raccolta di 24 brevi liriche, tempestate di simboli e di immagini, è veramente splendida, un capolavoro assoluto che ancora oggi a leggerlo affascina ed incanta sensi e cuori. Il Cantico ci porta in un giardino e al cuore del giardino c'è lei, la donna, e poi c'è lui, l'uomo. L'eterna coppia umana avvolta dalla tenerezza e dalla forza di quell'amore che, come dirà il Cantico nella sua ultima parte, è forte come la morte. E allora, al tempo stesso, questo piccolo libro è una luminosa celebrazione dell'amore, soprattutto visto e vissuto, e questo nella Bibbia è eccezionale, nella prospettiva della donna. E si riassume questo libro tutto nella sua celebre, intensa professione di amore, che ascolteremo nel capitolo 2, il mio diletto è mio e io sono sua. Ma quando l'amore umano, anche il più appassionato, è vero amore, e cioè il dono senza remore di se stesso all'amato, in esso è sempre presente una scintilla che rimanda all'amore di Dio. E anche per questo il Cantico è a pieno diritto nella Bibbia. E anzi, l'autore stesso di quest'opera ha dato così importanza al fatto che, descrivendo l'amore tutto umano fra un uomo e una donna, parlava in maniera profonda dell'amore di Dio, che pur essendo un ebreo di cultura e lingua greca, ha volutamente scelto di scrivere la sua opera in lingua ebraica, cioè nella lingua sacra di Israele, proprio perché aveva la consapevolezza di stare scrivendo un testo che trattava anche e soprattutto del Dio che è amore, in questo senso anticipando la grande affermazione Dio è amore della prima lettera di Giovanni, che in tutto il Nuovo Testamento è l'unico tentativo di definire Dio, che in sé è chiaramente indefinibile. E allora, proprio oscillando di continuo tra l'amore umano e l'amore di Dio, il Cantico dei Cantici è uno scritto su Dio e ce lo riviera in maniera particolare e straordinaria. Proprio perché tutto questo è appunto così straordinario da essere fuori da ogni normale schema religioso, per poterlo inserire e conservare tra i libri della Bibbia, forse perché era troppo bello per escluderlo, prima i rabbini di Israele e poi i teologi cristiani, tutti nella stessa maniera in qualche modo spaventati dalla passione che ricolma questo testo, hanno disincarnato il Cantico dei Cantici, l'hanno cioè letto come una grande allegoria, una serie di immagini simboliche che non parlano mai in concreto di un vero amore umano, secondo loro, perché per loro un concreto amore umano, fatto di carne, era considerato a priori peccaminoso. Ma in realtà parla dell'amore tutto puro spirito che per gli autori ebrei lega Dio al suo popolo e per quelli cristiani all'anima credente. In realtà questo poemetto canta l'amore concreto, fatto di cuore e membra di una donna e di un uomo, che è innanzitutto, non dimentichiamolo mai, un dono, una benedizione divina. E per questo è anche dono di se stesso all'altro. È un sentimento puro che si alimenta di passione e di sensi e ci insegna che in quell'amore totalmente umano Dio si rende presente e vince l'odio. L'odio fisico della violenza, l'odio erotico del possesso dell'altro ridotto a un oggetto di piacere e a volte di sfruttamento. Queste forme di odio che travisano e distruggono l'amore. In questo senso il Cantico dei Cantici è una benedizione che sia nella Bibbia perché se nella nostra vita noi purtroppo dobbiamo constatare che spesso l'odio sembra avere la meglio sull'amore, in realtà poi troviamo in questo breve scritto che si ribadisce con forza che Dio che ha creato il mondo è amore e allora l'odio non avrà mai l'ultima parola. Sì, per fortuna nella Bibbia c'è il Cantico perché mai come oggi di fronte a tanta violenza c'è bisogno di un vero puro amore integralmente umano e per questo anche divino perché segnato dall'amore di Dio per ciascuno e ciascuna di noi per tutte e tutte noi. Ecco perché noi oggi e nelle domeniche che verranno oseremo leggere insieme il Cantico dei Cantici questa celebrazione dell'amore ricca di gioia anche quando parla di dolore è sempre traboccante di vita. Lo faremo andando avanti e intanto ringraziamo il Signore perché ha voluto che un libro come questo facesse parte della Sua parola. Amen. Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore Gira a noi, Dio liberatore Gira con l'invito e con l'amore Non lasciarci più Oltre la tempesta Ogni giorno è festa Se non mai sei tu Se tu vuoi, Signor, ci ha tuoi testimoni Anche il nostro cuore Tu vuoi rinnovare Nella tua volontà Daci un'alvenire Anche il nostro cuore Anche il nostro cuore Gloria te darà Nacci per il te Dio della speranza Ogni nostro cuore Siamo per la danza L'invito e dubito Tu vuoi rinnovare In un'alvenire Di fraternità Ci raccogliamo in preghiera O Signore Dio nostro Noi ti ringraziamo Ti ringraziamo Per la rivelazione del tuo Evangelo di amore Che viene a noi Già dall'Antico Testamento Un amore Che si dona Un amore che illumina La nostra vita Un amore che ci salva Quell'amore che ha trovato Il suo pieno compimento In Gesù Cristo Ti chiediamo di guidarci sempre Con la forza del tuo amore Di aiutarci Allora A sottometterci sempre Con fiducia e con gioia La tua santa Buona, perfetta volontà Sapendo Che tu sei amore La tua volontà È amore Libera i nostri cuori Perché sappiano amare Ispiraci Perché viviamo Quaggiù Una vita Consacrata a te Alla gloria Del tuo santo nome Benedici Tutti quelli Che non hanno amore Tutti quelli Che sono soli Tutti quelli Che si sentono Abbandonati E fa che la tua chiesa Sia anche il luogo In cui si vive l'amore Oltre che parlarne Perché chi è solo Possa trovare Comunità e comunione Con i suoi fratelli E le sue sorelle In fede e in umanità E tutti insieme Adesso Ci rivolgiamo a te Con la preghiera D'amore Che Gesù Ci ha insegnato Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato Il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Anche in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimetti a noi I nostri debiti Come anche noi Li abbiamo rimessi Ai nostri debitori E non esporci alla tentazione Ma liberci dal maligno Tu hai il regno La potenza E la gloria Nei secoli Amen Riceviamo la benedizione Del Signore Il Signore vi benedica E vi guardi Il Signore Fate rispondere Il suo volto Su di voi E vi sia propizio Il Signore Sollevi il suo volto Su di voi E vi dia La pace Amen Avete ascoltato Il culto evangelico valdese La predicazione di oggi E' stata curata Dal pastore Ruggero Marchetti E' stata curata